...di Oxford che danno l'energia ai colleghi Rocco, Michele e Roberto dell'Agenzia Biblioffoli. Grazie per la visione! ...de qua in Basilicata, i Lucani sono veramente speciali. Grazie! Avete accolto a quest'idea molto nuova, con un entusiasmo, con un'energia, con una fantasia, per incorporarle nelle cose che faremo un altro anno in Italia. Ed è fantastico, è veramente fantastico.